Paura nella notte nel quartiere Arcella a Padova. Un boato ha svegliato i residenti di via Jacopo da Montagnana. Era mezzanotte quando un botto ha fatto sobbalzare gli abitanti del quartiere. Sconosciuti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti al centro di preghiera islamico. Al civico 7 si trova il Bangladesh Islamic Center. Aveva chiuso alle 20. Si tratta di un luogo di preghiera frequentato da cittadini cingalesi e del Bangladesh. Subito dopo il boato sul posto sono accorsi gli uomini della polizia e della Digos. Oltre ai resti della bomba carta sono state trovate anche tracce di un fumogeno, forse acceso per nascondere eventuali telecamere presenti nella zona. Gli sconosciuti hanno anche sfondato a calci una porta che conduce ad alcuni appartamenti sempre abitati da immigrati. Il complesso ospita quasi esclusivamente persone di nazionalità del Bangladesh e cingalese. In passato il centro di preghiera non aveva creato problemi, eccetto qualche lite con i residenti della zona in merito all'utilizzo di alcuni parcheggi. Sono in corso le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. La Digos sta ora verificando la presenza di telecamere di video sorveglianza in zona che abbiano filmato l'accaduto.